Parliamo oggi di ipertensione arteriosa. L'ipertensione arteriosa è una patologia caratterizzata da elevati livelli di pressione arteriosa pari a un valore superiore a 140-90 mmHg, anche se le più recenti linee guida internazionali definiscono come valore pressorio ottimale quello pari a un valore inferiore a 120-80 mmHg. È una patologia molto frequente nella popolazione mondiale, soprattutto nella popolazione con età superiore a 60 anni raggiungendo una prevalenza superiore al 60%. L'ipertensione arteriosa è un importante fattore di rischio cardiovascolare ovvero aumenta la probabilità che si possa sviluppare una patologia cardiovascolare per cui è fondamentale individuarla e curarla precocemente al fine di evitare un danno d'organo. È una patologia cardiovascolare conclamata. Per quanto riguarda le cause dobbiamo considerare come il 95% parliamo di ipertensione arteriosa essenziale, quindi non esiste una causa definita ma è legata all'alterazione e alla regolazione di tutti i meccanismi che regolano la pressione arteriosa. Nel 5% dei casi parleremo di ipertensione arteriosa secondaria che è una forma legata alla comparsa di alterazioni congenite o acquisite di organi quali reni, surreni, cuore, vasi, mentre invece può essere legata anche all'assunzione di farmaci quali terapia, il corticosteroide, spray nasali, abuso di sostanze stupefacenti oppure l'abuso di liquirizia. Molto spesso l'ipertensione arteriosa è asintomatica, può manifestare invece dei sintomi che rappresentano dei veri e propri campanelli di allarme quali vertigini, cefalea, quindi mal di testa, epistassi, perdita di sangue, dal naso, ancora alterazioni della vista. È fondamentale quindi il controllo pressorio in quanto la diagnosi si effettua attraverso la misurazione della pressione arteriosa che deve essere effettuata verso lo studio del medico di famiglia ma anche a domicilio ma sicuramente il regolare nel tempo. Fattori di rischio sono l'età, lo stress, il fumo di sigarette, il diabete, la sedentarietà, l'assunzione di alcolici, la familiarità. Per quanto riguarda invece il trattamento, il trattamento non è solo farmacologico e quindi non costerà unicamente di un'assunzione di una terapia data al medico di famiglia ma è anche legata alle abitudini di vita quindi è fondamentale un moderato consumo di alcolici, l'astensione del fumo di sigaretta, una vita che non sia sedentaria con un'attività fisica di almeno 30 minuti, il bicicletto di camminata veloce al giorno. Invito quindi tutti a una misurazione regolare del tempo della pressione arteriosa per ridurre il rischio cardiovascolare. Rivolgetevi al vostro medico per prevenire i danni e gli effetti dell'ipertensione arteriosa.